salve a tutti io sono gabry costa ascoltatemi siamo pronti per fare il primo livello di ash versus evil dead insieme al retro realms vi dico i comandi premi a per saltare verso una sporgenza e i sarti premi giù più a per scendere attraverso le piattaforme premi giù più a a terra per rotolare premi su più x per eseguire un attacco verso l'alto tieni premuto x per eseguire un attacco caricato salta verso un muro e tieni premuto destra quindi premi a per eseguire un salto a parete premi b per passare alla dimensione degli incubi e premi b per tornare nella dimensione reale bene vi ho spiegato i comandi ora dovete impararli avete capito quando voi giocate a questo gioco dovete imparare i tasti e i comandi e capire quello che io vi ho detto se io sono stato chiaro se c'è qualcosa che non va ditemelo voi lo sapete che io dico la verità avete visto c'è tutta la roba che va raccolta nel gioco ash dice devi alzare le chiappe amico oggi non posso occuparmi di te e guardate dice ehi non vale appellarsi al mio lato tenero o dei demoni da uccidere questo umano si è trasformato e dice il signor oscuro osserva ogni tua mossa ash non lo sconfiggerai mai ricordatevi che questo gioco si chiama ash versus evil dead lo sto facendo per voi ma lo sto facendo anche per il mio fratello alex costa visto che ama l'horror e poi ad alex costa piace sto personaggio ash williams che sto facendo vi faccio ricordare che alex costa una volta faceva evil dead regeneration facendo ash ma non era solo perché al suo fianco c'era anche sam un nano metà uomo e metà zombie che lo aiutava a fermare rain hard io me lo ricordo benissimo ma adesso torniamo a noi e tristo c'è tutta la roba che va raccolta nel gioco poi ci sono anche dei drink che ti danno l'energia se vi state facendo male nel gioco con i drink di curate si passa la dimensione da incubo e dimensione reale poi ricordatevi che c'è da raccogliere anche dei biglietti gettoni i fondi se raccogliete i fondi vi serviranno per acquistare potenziamenti se non avete notato siamo in questa notte piovosa cercate di non perdere salute perché se morite ritornate al punto di partenza questa volta non ci sono checkpoint hai visto come si conclude il livello si conclude con ash che sale sulla macchina e inizia a investire i mostri bene livello completato vi saluto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace abbiamo fatto la prima parte del primo livello mossi aven grazie a tutti grazie